Grazie a tutti. è un tema di agenda di conferenza e ora ci siano come l'Islanda, del Reino Olandese, del Duttese, del Carribean, per fare un'altra cosa che ci tratta di un tema di relazioni. Sì, è un'altra cosa che è la mia corsa, e ci siamo molto orgogliosi e contenti che il corso alto che si tratta di assumere la responsabilità di un altro anno. Quindi ci speriamo che ci siano con la cooperazione e la buona cooperazione che ci sono entri in Islanda, ma anche con l'Unione Europea di un differente progetto che ci vogliono incamminare. Per darvi un esempio, in Aruba, ci siamo approfittati di un progetto interessante anche per la cooperazione che ci siamo con l'Unione Europea, per esempio il mobile makerspace che ci siamo, ora che ci stanno visitando la scuola di Traymerdia, ci sono un prodotto di essa qui, anche una facoltà nuova che ci stanno lavorando in l'Università di Aruba, facoltà con la maestra in materia tecnologica di STEM, e ora che ci siamo che ci stanno seguendo con molti progetti. C'è anche un punto di agenda molto importante e con l'Islanda che si tratta di un tema di noi, il tema di una calamità con un po' aiuto da l'altro e con la nostra parola, con la nostra parola più concreta per la nostra buona preparata in qualche eventualità. C'è tutta la prima riunione di AVE, tutta la riunione suamente fructifera, ma prima viagra come parte di partecipare in una riunione con il leader di tutti i diversi paesi di Isla, tutta la forma parte di Antigua Holandese e originale, cada uno tiene su forma e su status. C'è tutta la riunione tra i primi ministri di Corso, di San Marti e Mimes. C'è tutta la riunione di San Marti e Mimes e Bissi, ci tratta di un tema importante che si tratta di noi, ci 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 si tratta di noi. O meno possa, poi, un tema interessante che si tratta di pytanie di noi, ci c'è tutta l'interazione quando ci territo? con cada uno dei nostri paesi che lavorano riba e saque, e non si arriva nella parola, non si va a lavorare il tanto possibile. Quando va bene, nella comunità è un po' piccola, ora si tratta di integrità, ora si tratta di investigazione, che ho bene, non si tratta di sostenere, uno si tratta di sostenere l'altro, non si tratta di usare l'expertizia dell'altro, non si tratta di garantire la realtà e la integrità che vogliono nella nostra governazione. Non si tratta di tema di crisi social che ci stanno nel nostro paese, Aruba ha un crisi social nel nostro anno e duro nel Besey, e noi ci stanno compratendo con il seno Marte e con solo che ci stanno facendo, e anche che c'è tutto il nostro corso, che ci stanno facendo un altro, che ci stanno facendo un'altro. E noi ci stanno, naturalmente, il tema di migrazione, che in Aruba è un tema molto difficile, che c'è un impatto di crisi migratore di Venezuela che ci stanno in Aruba. Nel quadro che ci stanno la parola che ci stanno per il nostro sociale e economica di noi, ci stanno facendo di Aruba, di St. Marte, di Corsol. Quindi si stanno avessati con il consiglio del gobierno come per comprendere gli aspetti. Mi ha seguito che questo è questo è il momento di aver atteggiato, un'ampicabile con il nostro gruppo, anche per il nostro gruppo, e ci sono i numeri che premienano di corsogossi in marzo, e quindi ci sono molto frutti vero e molto positivo. Inoltre ci sono i due giorni di lavoro molto duro e molto intensivo, ma anche molto frutti vero.